La Senataria di Ministro rischia di perdere un importante punto di riferimento, parliamo del servizio di anatomia patologica dell'ospedale infermi che è destinato, pare, a trasferirsi al Pieve Sistina. Voi non siete d'accordo? No, non siamo d'accordo perché è uno dei servizi fondamentali, principali di un ospedale. Portare via un servizio di questo tipo, a nostro parere, significa diminuire la qualità per l'utenza. Una qualità che comunque è a rischio, per sentito dire, anche a causa di altri progettati slittamenti e spostamenti. Noi siamo partiti da questo argomento perché è diventato di attualità, ma abbiamo intenzione di capire meglio come dovrà procedere il cambiamento dell'ospedale di Rimini. Vorremmo avere con noi anche i responsabili politici che oggi purtroppo non sono venuti, anche se invitati, tranne il dottor Piva e il dottor Lovecchio. Quindi ci siamo riproposti comunque di non abbandonare questo argomento perché riteniamo sia utile per tutta la cittadinanza e per l'utenza. E la vostra impressione qual è? Che la decisione sia stata presa e che probabilmente non ci sarà una via d'uscita? Beh, la nostra impressione è che sia già stata presa perché altrimenti non capisco come mai i politici non sono venuti. La cosa che a noi dispiace e l'abbiamo sottolineato questa mattina è che a nostro parere è giusto che in queste commissioni che decidono sulla pelle della gente sia presente anche una rappresentanza dell'utenza. Ci sono tante associazioni che lavorano, tante associazioni preparate, quindi perché non chiamare una rappresentanza di loro che rappresentano appunto i problemi del malato e del cittadino?